E però ci sono stati anche un estremo di gentilezza incredibile, posso raccontare due aneddoti? Anche ieri ne sono stato io testimone di una signora che si è sentita male nell'ascensore dal parcheggio alla hall, è caduta a terra ma non perché inciampata, non si è sentita bene nessuno si è tirato indietro magari proprio con la scusa e beh magari c'è coronavirus, la tocco, prendo o no sono forsi tutti a aiutarla, gente comune, poi sono arrivati di infermieri eccetera però questa è già una bella cosa che mi ha confortato molto, dimmi le tue Io allora, una cosa bella dal punto di vista della nostra professione è che adesso seppur noi stiamo facendo quello che facciamo sempre, ossia prenderci cura adesso c'è maggiore attenzione, forse si è un po' capito che siamo delle... tutto il sistema sanitario nazionale è una risorsa importante di cui noi ci prendiamo cura degli ammalati, delle persone che hanno bisogno di assistenza ma tutta la comunità deve prendersi cura di questo bene comune che è rappresentato dal sistema in sé ma dalle persone che vi sono all'interno due aneddoti belli, uno l'ho letto su un gruppo lecchese poi ho avuto la conferma dai colleghi del pronto soccorso di una signora che si è recata a fare la spesa una signora anziana ha comprato fondamentalmente biscotti, caramelle, insomma generi un po' di conforto che tirano un po' sul morale per portarli al pronto soccorso li ha lasciati lì al pronto soccorso con un biglietto di ringraziamento anonimo si è firmata come una persona qualunque però ha avuto questo pensiero gentile molto carina molto carina anche ieri è stata nel reparto della terapia intensiva dedicata è stata offerta la cena da parte di una persona che passava di lì in ospedale ha deciso di far arrivare e offrire le pizze ai colleghi che erano impegnati in prima linea quindi sono piccoli gesti di gentilezza che però sono importanti grazie a tutti